Per 15 giorni 43 milioni di italiani saranno in fascia rossa, 10 regioni oltre alla provincia autonoma di Trento, tutte le altre in arancione, esclusa la bianca Sardegna, con i governatori che possono rafforzare i divieti nelle aree con elevati contagi. Il picco della terza ondata è vicino e per evitare la diffusione aumentano i controlli. Dall'inizio della pandemia sono stati più di 46 milioni e 800 mila i rilevamenti delle forze dell'ordine, stando ai dati diffusi dal Viminale. Oltre 37 milioni di persone sono state fermate e di queste l'1,6% è stato sanzionato. Nell'ultimo weekend di Semilibertà la gente si è riversata nei centri storici e nei litorali. Assembramenti da nord a sud e in alcune località sono tornate le file davanti ai supermercati, dove si stima un aumento della spesa in media del 20% per fare scorte di prodotti alimentari. Il picco della curva dei contagi è previsto tra qualche giorno, ma già nelle ultime 24 ore il tasso di positività è schizzato al 7,8%. 21.315 nuovi casi, 264 le vittime, un numero sempre alto anche se in calo rispetto al giorno precedente. Superati 3.000 ricoveri nelle terapie intensive. Il valore massimo di 4.000 era stato toccato ad aprile dell'anno scorso, in piena prima ondata.